Inutile fare proclami perché i proclami non servono a niente, è il rettangolo di gioco che alla fine giudice di quello che sarà, ma vogliamo fare bene, questo è una nostra prerogativa, il progetto va avanti, è un progetto serio, ambizioso. Zero proclami ma tanta voglia di far bene, di dare continuità a quel quarto posto per punti ottenuti sul campo nel gironea dell'ultimo campionato di eccellenza, chiaramente il coefficiente di difficoltà lievita con il ritorno al format a girone unico, 20 squadre al via, almeno 5 se non di più per provare a vincere il Canosa, per come si è strutturato negli ultimi 12 mesi, non può però non strezzare l'occhio a un piazzamento playoff. Il Canosa deve avere fame, voglia, determinazione, partita dopo partita, noi per quanto concerne Apici non ce ne facciamo, noi non ci poniamo limiti, è chiaro che per quello che sento che sta costruendo il Barletta dovrebbe essere la candidata senza alcun dubbio a vincere il campionato, ma quest'anno come hai detto te in precedenza un campionato a 20 squadre duro e una serie di due sarà una battaglia su tutti i campi, lo dobbiamo al Presidente e lo dobbiamo ai tifosi che credo che abbiano raggiunto quella maturità e quella consapevolezza che questa è una società seria e sarà una squadra con gli attributi. Il confermato, direttore sportivo Gianco Francavella in totale sintonia con il neotecnico Gigi Di Simone è già operativo sul mercato da più di un mese, praticamente definiti gli accordi per gli arrivi al San Sabino dei difensori Facundo Tallin, ex Unione Calcio Bicelli e Murillo Gomez reduce dal bienio trascorso in serie via Bitonto, fatta anche per l'attaccante Momo Sani, altro ex Unione Calcio. Siamo in dirittura d'arrivo, credo che entro la settimana prossima si possa chiudere il discorso di questi tre giocatori che hai citato, ma non ti nascondo che abbiamo anche effettuato sondaggi su altri giocatori con una stretta di mano, credo che abbiamo raggiunto un'intesa, ma non solo per quanto concerne profili di eccellenza pugliese, abbiamo voluto quest'anno allargare un po' più il nostro raggio d'azione nell'andare a individuare profili che conoscevo dagli altri giorni, sia dalla Serie D, dall'eccellenza, giusto per non rimanere sempre nello stesso circuito di calciatori. Non sarà rivoluzione totale, però al canone lo sa, diverse potrebbero essere infatti le conferme, hanno già la certezza di continuare a giocare per il club del presidente Alessandro Di Nullo, i portieri Paolo Vicino e Tommaso Caposele, i difensori Giuseppe Pinto e Leonardo Pignataro e l'esterno offensivo Domenico Pizzulli.